Il tuo paura è che quando c'è uno dei bombardamenti? Io, io sai che ero giù nella piazzetta di sera, ci giovano quando uno e sai... Ohhhh... Era la siriana, è vero, è vero, la faceva così la siriana. Porca miseria, mamma, mamma... E' già per quanto piano? Di più, di più, di più, di più. Più, di 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 più. E' piccolo, mamma, mamma. E' andato giù, si andava già di coscolto, capito? Si, si, si. E' un tiro di stilpo. Però aveva già cominciato sulla stazione, che veniva l'aria accia. E' andato, e ti chiamano un collo e un fratello dietro. Oh, no, no, no.